informatevi, scoprirete la grande verità che illuminerà i vostri cuori, vi salverà dal buio, vi salverà dalle catene diaboliche, molte persone sono prigionieri di catene invisibili, le catene del male, le catene del peccato, le catene sataniche, lo dice la Bibbia, ma grazie a Dio Gesù Cristo, il grande re del cielo è venuto sulla terra per salvare noi, che eravamo prigionieri del buio, prigionieri del peccato, e Gesù disse cari, lui predicava in ogni luogo come stiamo facendo anche noi, seguendo il suo esempio, Gesù predicava nelle strade di Gerusalemme, gloria a Dio, e Gesù diceva, ascoltate, chi ha orecchie da udire oda, chi ha orecchie da udire oda, il Signore diceva, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi, gloria a Gesù, cari, il Signore, il grande re del cielo, vi vuole fare liberi, veramente liberi, il grande re del cielo, che è Gesù Cristo, il figlio di Dio, vuole rendervi liberi, vuole farvi conoscere la verità, la verità, la verità cari, la verità è nel Vangelo, e altri coloro che ascoltano e ricevono nei loro cuori questa parola di verità, questa parola di salvezza, la parola del Vangelo, è la salvezza per l'umanità, è la libertà per l'umanità, è il messaggio della vittoria, non confidate nell'uomo, non confidate nelle ricchezze, non confidate nelle vostre forze, non confidate nella scienza, nelle favole umane, nelle religioni umane, non confidate negli idoli, confidate nel Signore Gesù, alleluia, il Signore Gesù, cari di Zohadi, cari di Passaggio, il Signore Gesù è la via, la verità, è la vita. Grazie